Che cos'è per il Giappone Alberto Zaccheroni, come allenatore, come persona? Zaccheroni è molto amato dal popolo giapponese, ha dato il calcio molto offensivo al Giappone, peccato che il mondiale è andato male, però la sua squadra faceva divertire la gente che ama, ha amato, ama ancora Zaccheroni. Io ho visto tanti commenti sui tifosi che sono molto dispiaciuti questo incidente, che adesso sperano molto, sperano che guarisca. Lui quando è stato allenatore della vostra nazionale ha incontrato anche l'imperatore, è stata una situazione un po' particolare, nel senso che forse era il primo straniero che riusciva ad arrivare, ad incontrare anche l'imperatore per questioni sportive forse. No, lui è amato molto perché lui ha cercato molto di conoscere il popolo giapponese. Ah, quindi era una persona che oltre al calcio si muoveva anche sulla cultura giapponese. Sì, 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 sì. Per cercare di entrare nella mentalità. Sì, sì, sì. Lui, lui, mi ricordo che lui passeggiava con una moglie che a volte venivano in Giappone, sulle strade, e quando i tifosi lo fermavano, lui con piacere faceva fotografare, autografi, quindi, sì, amato molto.